Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! E entreremo nei panni di un detective, il detective Clay Christ, e diciamo che andremo incontro a degli edifici, delle case infestate, o la casa infestata. Iniziamo, lo programmo insieme, lo volevo tenere per una live però, non lo so. Ok, sono le 10 di sera e torno a casa dopo una giornata di lavoro. Premi tab per aprire l'inventario, quindi abbiamo il nostro taccuino. Praticamente devo esaminare la lettera sul... ok. Con il tasto A leggiamo. Spero che questa lettera ti trovi di buon umore e preparato per un'investigazione nel mondo là fuori. Sto scrivendo per portare la tua attenzione a una questione così peculiare che sospetto che potrebbe essere... Vabbè, insomma, minchiate. Potrebbe essere una minaccia galattica, una roba del genere. Nel passato, nelle notti passate, il mio umile monolocale, la mia casa, è diventata una serie di incidenti inspiegabili che riconducono a degli scoiattoli extraterrestri. Potrebbero essere riconduti a questo. Hai letto correttamente. Scoiattoli dallo spazio. Questi roditori celesti non sono... si sono solo infiltrati nel backyard, nel giardino dietro, credo. Ma sono entrati anche nella mia cucina. Sembrano che abbiano... stiano sviluppando, insomma, qualcosa... stiano mangiando degli snack. Va bene, ti imploro di... va bene, darci un'occhiata. Va bene. Andiamo da Bella, che è il nostro cane. Il nostro bel pastore tedesco. Puoi comandare il cane premendo Tab per imparare di più. Ok. Activate voice command. Tiene premuto V. Puoi vedere questi commenti. Stay. Follow. O search. Aspettate un secondo. Voglio vedere se... funziona. È eseguito l'accesso al microfono. Ok. Mi ha insegnato. Vediamo. Vediamo se funziona. Follow. No, credo vada con il microfono esterno delle cuffie. Aspettate che lo proviamo. Proviamo subito. Follow. Ok. Stay. No, mi segue. Probabilmente non è previsto. Stay. Follow. Ok, funziona. Minchiata. Cosa devo fare? Pick up the camera and take a photo from the board. Ok, devo prendere... la Polaroid. La Cameroid. E premo C per scattare una foto. Ok. No, questa è una leggenda perché non è vero. Però va bene. Siamo cresciti tutti così. Va bene. Take. Play the VS... Ok. Nella stanza delle registrazioni. Devo andare a vedere la videocassetta, la VHS. Non so dove sia la stanza delle... Ok. VHS è qui. E vediamola. Seleziono... la VHS. E la inserisco. Ok. Adesso l'ho acceso. Vorrei usare questo. Left mouse... Allora... Right mouse... Ok. To insert it. Ok. Tasto destro del mouse. La inseriamo. Perfetto. A V1. Ok. La grafica è molto carina. Ma non capisco cosa devo fare. Gira per la stazione di polizia e guarda se ci sta facendo interagire con... con i vari oggetti. Devo girare per la stazione e vedere se c'è qualcos'altro di utile. Questo gioco qui si presterebbe comunque tanto per una live. anche se ho paura che giri male perché comunque essendo un indie magari non è un po' pesantino. Anche questo in real engine è abbastanza pesante. Per quanto... Vabbè, non si vedono le gambe ma è molto carino il movimento perché è molto pesante come movimento realistico. Qua abbiamo un pannello che non si può fare niente. Qua abbiamo un pannello che non si può fare niente. Ho bisogno di una chiave. Ma non possiamo andarcene semplicemente? No. Ok, ce ne andiamo. E vediamo. Si fa interessante. Purtroppo non è tradotto in italiano. Non credo neanche arriverà perché non è il classico gioco per cui io mi aspetterei una traduzione in italiano. Ma vediamo, vediamo. Mai dire mai. Magari qualcuno lo traduce. Qualche cosa amatoriale. Non lo so. Anche se sono anni che aspetto la traduzione di infra ma non l'hanno mai tradotto. Ok, siamo in auto. Graficamente è molto bello. Ciao cane. Penso che sia l'indirizzo giusto. Diamo un'occhiata. C'è questa filigrana a schermo che non saprei... Chiudi che entra l'acqua. Allora, cane? Non lo facciamo venire con noi. Follow. Cane è animato benissimo. Ricorda Blair Witch. Andiamo. C'è qua... Ho un elmetto tipo perché vedete che c'è la... Non è la filigrana, è proprio la pioggia sulla visiera. Vieni, vieni. Andiamo a vedere. Ah, perché usiamo la bodycam. Ok, capito adesso. Stiamo usando una bodycam. Dovremmo trovare un'altra via per entrare. Non si salta. Diamo un'occhiatina in giro. Finestra aperta, entriamo da qua. Cerchiamo dentro. La finestra è rotta ma non vedo nessuno. Può entrare? No, non si può entrare. Non mi lascia. Ma cosa ho in inventario? Niente. Assolutamente niente. Non c'è... Ah, ma si è aperta la porta. Chi ha aperto la porta? C'è qualcuno qui? Mamma mia. Penso che sia la famiglia che vive qui. Ok, quindi vediamo. Sono mamma, papà e la bambina su... Sulla neve. Può guardare tutto. Bottiglie di profumo. Possono aprire i cassetti. solo che un poliziotto entra in casa e ovviamente si mette... Allora, a parte il discutibile... la discutibile divisione di distanze. Chiuso. C'è anche questa deformazione del... del fisheye, del grandangolo. La tv è accesa. Manca la chiave. Dovrei trovarla da qualche parte. Anche i libri. Sono tutti diversi. Allora, qua. Sì, ma non si può avere una casa del genere. Cioè, che spreco di spazi. Ho chiuso. Ho bisogno della chiave. Un pittore si è trasferito in città. La famiglia che include Jolis Husband, il marito di Jolis, Jack e la loro figlia, Annabelle. Sono arrivati con sogni... con i sogni... con i sogni di una vita più semplice. Ok, stiamo iniziando a ricomporre il puzzle. Quindi, abbiamo... la famiglia della pittrice. Ma io sento? No. No. No, perché io usando anche le cuffie per il microfono non sento benissimo l'audio di gioco. e quindi magari suona... mi sembra che suona il telefono ma in realtà non è vero. Comunque. Vai chiuso. Sarò la luce. Che è successo? C'è qualcuno lì? Minchia che... Ho la pelle d'oca, vi giuro. Merda. Ho la pelle d'oca davvero. Avete visto anche voi quello che ho visto io? Minchia, ho i brividi sulle braccia. Questa finestra si è chiusa. Là c'è la nostra macchina. Siamo entrati da là. E c'è un fantasma che sbatteva la porta contro il muro. Il problema è che qua non si vede niente. Il telefono è staccato. Porca caccia, la miseria. Mamma mia, il cane che mi ha fatto prendere un colpo. Io onestamente non so dove va a parare questo gioco perché non lo conosco e lo sto parlando insieme a voi. Però sembra assolutamente intrigante. Non mi sembra un grande ostacolo la lingua. Devo cercare le chiavi. Il problema è che qui non si vede niente ma forse accendendo la luce qui ok sì, è un villone pazzesco ma si va anche di sopra ma è chiuso ovviamente. I giochi horror sono i giochi delle porte chiuse. qua c'è la foto di matrimonio questa è chiusa ovviamente c'è una cartelletta una tv e la chiave sono cadute le foto ho un'altra foto di matrimonio esattamente identica come quella ecco, in un gioco dove hai magari un'ambientazione così circoscritta secondo me sarebbe da evitare di mettere un doppione che senso ha mettere due foto uguali. La sedia d'ondolo è sempre un richiamo ricorrente nel mondo degli horror la sedia d'ondolo che dondola. Allora, ho trovato delle chiavi le chiavi di che? Non lo so proveremo ad aprirle tutte le porte anche se secondo me secondo me potrebbe essere una del ripostiglio o del... non credo questo credo fosse questa no? forse qui? avete visto? se non avete visto tornate indietro vi prego adesso mai dare le spalle però eccolo lì l'interruttore fortunatamente mi viene evidenziato ok ma anche questo ho messo qui per per spaventare ma magari la prendevi subito invece di lasciarla fuori si chiuderà la porta adesso come minimo no invece no ma mamma mia ragazzi questa è un'ambientazione pazzesca cioè graficamente non è uno spettacolo ma ha una combinazione di effetti che lo rende bello veramente bello da vedere oh finalmente cioè adesso la usavi subito invece di farlo eroe allora ricapitolando questa è una casa immensa è scappato il cane il cane corso dentro non l'ho visto la casa è enorme entriamo da qua no non entra vedete che ci sono le impronte lì è entrato qualcuno non trovare un altro modo di entrare il cane è scappato dentro non ho quasi di vederlo là ma no non si entra da qui comunque nella stanza prima che saltasse tutto avevamo visto i colori del per dipingere quindi era la stanza della pittrice si può entrare da qui non so cioè si potrebbe entrare facilmente ma non non vuole entrare comunque pareti totalmente senza finestre e questa è la stanza dove è saltato tutto prima mi sa si eravamo qua quando è esploso tutto vai chiuso c'è una veranda dietro e sarà aperto qua bene infatti hey bella 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 come here where did you go girl ok viene dal cementerato quindi sarà qui sicuramente ok il cane potrebbe essere in pericolo quindi bisogna trovare subito il modo di andare giù ah si è aperta ovvio che dopo decenni sono tutti cliché già visti però quello che non so dirvi allora il prezzo ve lo dico onesto se lo trovate scontrato è affarone però il prezzo secondo me è onesto non so dirvi quante ore due non dura certo 80 ore neanche probabilmente 15 o 20 come gioco però di che atmosfera ho un qui ah devo tenere premuto si apre ok devo riparare qualcosa qua c'è la caldaia fusibile il fusibile è veramente anche questo è un cliché iper utilizzato eccolo qua è fatto bene però devo capire da dove si riattiva la corrente però non c'è una leva o qualcosa no fusibili li ho messi vuoi dire che adesso si accende la luce no fusibili ah off on ok luce tornata e luce fu posso spegnere perfetto ho ripristinato la luce eh sì l'abbagliare del cane arrivava da qua il problema è che è una casa immensa niente ragazzi io mi fermo qui perché è veramente terrificante questo titolo fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Baizu se vi è piaciuto e noi ci sentiamo in un prossimo video game play alla prossima e ciao 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 Grazie.